Ma che cazzo avete vinto a Napoli? In C.E.I.D. Da 2009 Avete vinto due scudenti E' una Coppa Italia? Una Coppa UEFA? Anche Supercoppa Supercoppa italiana Tre Coppa Italia E allora? No, 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 è giusto chiarire No, ma sono più di vent'anni che non state rivivendo un certo periodo di protagonismo perché io qua me le posso pure andare perché uno poi si rompe i coglioni e se ne va e io me ne ritorni da me No, no, dove va? Se io devo stare qua bisogna che tutti quanti ci rendiamo conto e armonizziamo e i tifosi per primi per i quali io ho sempre umilmente detto che lavoro perché per me il mio committente è il tifoso però tutti quanti dobbiamo stacco piedi per terra perché qui a Napoli non funziona un cazzo e non è che dici sai a Napoli funziona tutto poi c'è anche il calcio no, a Napoli c'è solo il calcio e allora ringraziate Arrivederci, grazie Arrivederci